Abbiamo ancora una mezz'oretta, tre quarti d'ora buoni, quindi direi di continuare senza troppi indugi con una missione scavenger, ovvero PvP così almeno proviamo anche l'altra modalità entriamo nella lobby del PvP, usiamo Berg che fa tanto male questo bel fucile a pompa con... non si fa fucile a pompa, si, 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 si aspettiamo di iniziare la missione ci fai amiciare tesoro? allora, ci fai cominciare a giocare oppure no? ok, ready? scusate, sono giocati un po' così e a volte partono quando ti pare a loro vi chiedo perdono e vi spero, spero che siete ancora con noi, che siete ancora con me vediamo un altro po' ok, aspettiamo che arrivi qualcuno per il matchmaking, sperando ci sia qualcuno con cui giocare altrimenti rifaremo un'altra partitella in PvE che a quanto pare hanno più seguito perché normalmente si trova subito qualcuno in PvE mentre in PvP a quanto pare non ci sta giocando quasi nessuno bene, se nessuno si avvicina in PvE dovrò tornare al PvE oh, eccoci qua, pronto come vedete, si gioca 1, 2, 3, 4, 5, eh, vabbè comunque, siamo pronti having a nice anche a stavolt abbiamo una bellissima FIKA e niente, siamo pronti a cominciare ok, il Fectus Roar cura me e i miei compagni fondamentale avere questa vita ok, io sono nel Green Team e sono anche da solo così a occhio mi sento di notare il Green Team, devo andare a prendere le... aiutatemi, scusate le sbroviste per il mio team e portarle nella, nella mia, del mio fungolcino da muore a me compare Gaudì siamo qua su, vedete nella mappa dobbiamo andare a prendere in giù qui sono questi, queste bandierine c'è un altro personaggio quindi siamo due curatori di casser è una volta a cominciare si partono a 10 5, 4, 3, 2, 1 via non ci sono, non ci sono un attorno non ci sono ma perversari ma anche inizori l'esperienza è doppiamente complicata è di manere sempre in gruppo e giocare di squadra per riuscire a farci anche un attacco 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 Mi manco attaccato al gruppo per evitare di fare errori madonna, distruggiamo la barricata La nostra squadra è stata più in vicino a rimasto, quindi il gruppo di noi deve andare indietro su un foglio, per girarli La nostra squadra è stata abbastanza durata per me La nostra squadra è stata fuori, perché non permette di rinforzare il risultato per rinforzare Questa è stata molto forte Siamo quasi i primi a arrivare, ma alcuni altri scavageri sono già qui. Adesso possiamo andare a prendere altre attenzioni di struttura. C'è un paio. Ci proviamo. Ok, insomma, che mi dà. Abbiamo perso qui sto in ritornando. Ecco il pezzo, ma sto incastrando! Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Non arrivi ai miei compagni, perché forse è meglio se torno di là. E lascio le propiste che ho racconto. Ok, quello con te, cara. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Certi, avere. Accogliere le propiste di questi propiste un pò come a me. Sì. Mai il gioco originale. La gestione delle propiste era fondamentale per uscire a farcela. E anche rimanere qui da carrozzare in questaر�-iavistia, perché se lo stiamo arrivando a fare quella dellacza... Scusi qua che sta인가 a voler parte del pozzlenco. Cosa vogliamo fare qua, a parte perdere il tempo? Ecco, abbiamo perso solo tempo. Questo è un po' di provato. E' un po' di questo che siamo soltanto fatti uccidere, tanto mi sembra che qua, mi sembra che qua fatti uccidere sia diventata un po' la bomba. Ok, risponiamo alla base. Questa è un po' di coraggio veramente dritta, comunque, dunque, come si era detto qua, vabbè, direi di andare a prenderle le viste, però, a cui, come deve essere finalmente utile alla causa, e non ci sentirei più sbagliato, ma portavano la base avversaria, ecco, si mette fin qui la parevina. Vedete, se rimanete in questa zona verde, conquistiamo questa buona. a questo punto, non tiriamo le viste provviste, che porterò immediatamente alla base. Anche se mi segnala la mia mia leva, così, era estremamente fidele. fidele. E questo è il nostro simpatitale mio. E questo, se davvero questo, lo possiamo uscire. Anzi, dobbiamo uscire. Siamo arrivati nel casino. Siamo arrivati nel casino. Siamo arrivati nel casino, tutta la base ci sono zombie, nemici, c'è un po' di le voce, eh? Oh, abbiamo fatto una prima kill intanto! E se non fossi bensinato! E se non è che sono buono soltanto a morire io, ma anche fare qualcosa. C'è qualcuno che ci ha giocato, c'è un attimo ora dovrei andare a riportare un po' i frontisti a casa mi piace che le perdano pure c'è un limite di giocatori online si gioca credo in 4 per squadra si sono 3 squadre di 4 giocatori quindi sono uccisi questo è il limite massimo altrimenti c'è la cooperativa in 4 giocatori che però è un altro gioco un conto è giocare in PvE un conto è giocare in PvE c'è da guardarsi in spade un po' da fredda all'isbubale non perdoniamo questo dopo il è gigante e senza comprare è una grande playa è un po' di spade si è un po' di spade è un po' di spade abbiamo il po' di spade è il po' di spade che non farà il lo scopo è un po' di spade è un po' di spade ok, è meglio che... ...e non ci fermate devo ripetere sempre nel metodo questo cerchio verde per riuscire a... ...dare il punto di... ...delle delle sue 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 ora, ora siamo tutti qua infatti ci stanno rubando un altro pezzo ...dai, vediamo qui ok, ok abbiamo preso il mio non lo abbiamo preso, non lo so non lo so, non lo so 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 tutto il gioco dice rubare il risorso e prendere il risorso non lo so non lo so qualcuno ci ha giocato ci sono scavengati non lo so non lo so vedete, la squadra del blu è abbastanza bravina ma noi... noi, come dire... siamo quasi semplici ecco vediamo così ma ci riprenderemo vedete spero che ci riprenderemo vedete 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 et vedete vedete Mamma mia facciano p***a Smaug Vabbè andiamo alla base con il sacco sinistro Ho finalmente sbloccato la ultima Che è questo salto che fa malissimo Se avete fatto caso il tizio come mi è stato addosso e mi ha fatto veramente tanto male Era quella lì in ultima Evidentemente era expandente Non so se non sia una grande idea da venire da venire da venire da venire da venire Ok eso mi è stato cambiato Non so se non è arrivato È giocattico e l'aiuto di controllo E' quite apprisede me per me me non potete vedere se dai questo qui e mi lasciarà se sono a rubare quella magari non staranno a perdere che scavano magari siamo seri a sapostare questo tipo di raccolta la vedo durissima ma ci si può fare le mie abilità io ti ho fatto male ah per me sembra che non ci avvirtizia dai 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 facciamocela accettate amici su steam certo come no che accettate amici su steam mi trovo come a l'ho che è qui basta la capota capota amici e ci avviciniamo e abbiamo preso anche queste distrutto di controllo e ci andiamo a riportare le nostre bellissime prove viste a casa stiamo migliorando siamo sempre i buoni ultimi ma migliorando oi i le abbiamo scacciati non ne capisco che nel senso perché intanto non ci dà altre supply questo abbiamo ammazzato mi promette possederle e gli dà anche dei tic e vieni qua maledetta vieni qua cosa dire di fare non vediamo se non vediamo se non vediamo se riuscimmo a arrivare a la tua base non è così guardate la nottata del mio shot che non mi consente di fare Stiamo sparandole però vediamo un po' se siamo alla sorletta Se la sorletta ci impegna Infatti adesso non abbiamo Non ci sono mai risparmato solo la sorletta Potete tirarne fuori andando a rubargli un punto di controllo Anche abbiamo già fatto per l'altra notte lo direi Abbiamo già rubato un punto di controllo In mezzo a loro è un vinto Andato i faccendi affacentati Però li stiamo assediando nel loro punto di controllo E' un altro che abbiamo ammazzato E' palese che non possiamo eliminare Poi ce la facciamo o l'abbiamo fregata? Andiamo qui Abbiamo tre blu E stiamo recuperando un po' di terreno C'è un po' di scopo! La scavenger ha fatto l'ordere! Tornare in a seconda! The hostiles are getting close to the inn now! There's still time! C'è un po' di scopo! Blue Team ha vinto la partita! Abbiamo fatto il nostro meglio ma il Blue Team ha vinto la partita! Direi di concludere lo streaming con un'altra partita in V2 così che chi non c'era prima ha dato via la commissione se lo può vedere adesso non so se ce lo mette in condizione adesso possiamo andare a giocare possiamo andare a giocare fino al... finchè non ha ricevuto un secondo pezzo eh si vedi il Blue Team se ne è andato quindi non possiamo andare a prendere gli altri oi in questo caso non so se mi vede non so se mi vede non so se si vede Sì, c'è un'altra zona Sì, c'è un'altra zona Ma come si fa? Molto problema questa cosa di potersi muovere sia in corpo a corpo che in corpo È un'altra zona di distanza perchè ti garantisce Cioè, ti permette sia di non dover per forza focalizzarti solo su corpo a corpo Garantisce un'altra zona di attaccare a distanza E quindi, in questo caso, mi ha visto a me Ah, se fate moltissimo, ma lasciata solo Allora, facciamo lo stesso Allora, facciamo lo stesso Questa è la scena E questa è la presa E' anche autoscurarsi E lo aiuta molto E questa è la presa Questa è la presa Noi Non è che non è la presa andiamo verso il vento dei fornimenti a lasciare tutto ormai la sfida è fra noi e gli arancioni ma dovremmo essere veramente superiori ormai ci dovrebbero essere i grossi problemi di gloria come se vede io ci dovrebbero essere subito i ragazzi siamo vinto quando mi arriva se sono ronti è sempre meglio arriva è un'altra in un'altra in un'altra in un'altra in un'altra secondo posto 20 minuti di partita non male non male non male bravi noi bravi noi